questo nuovo album deserti è per me molto importante è un disco di svolta di svolta sia musicale ma anche nella conoscenza di me stesso a scrivere questo disco io ho scoperto anche un piero nuovo e tutta questa novità insieme al alla mia storia passata è finito in questo album qua questa fotografia qua è una pozzanghera non è un cielo se ci si fa caso ci sono tanti punti che lo che lo dimostrano e quindi delle volte si può vedere il cielo guardando in terra o viceversa si può guardare la terra guardando il cielo questo gioco di riflessi è molto importante per questo album perché io mi sono riflesso in me stesso ho riflettuto su me stesso e mi sono e mi sono poi proiettato nella scrittura di questo disco